base di ogni fenomeno manifestato è il suono o la parola espressa con potere ossia sostenuta dal pieno proposito della volontà in ciò come sappiamo sta il valore della meditazione perché col tempo essa produce il dinamico proposito e il raccoglimento interiore o quell'ideazione interna che invariabilmente precede qualsiasi suono creativo quando si afferma che il logos creò i mondi per mezzo della meditazione significa che entro il proprio centro di coscienza vi fu un periodo in cui egli ponderò e meditò sui suoi propositi e piani egli visualizzò l'intero processo mondiale come un tutto perfetto vedendo la fine fin dal principio e consapevole dei dettagli dell'opera giunta a compimento conclusa tale meditazione e tutto il perfetto visto come un quadro nella sua visione interiore egli pronunciò una parola di potere a lui trasmessa da colui di cui nulla si può dire il logos dello schema cosmico di cui questo sistema fa parte le iniziazioni cosmiche e logoiche non ci riguardano se non in quanto quelle umane ne riflettono i grandiosi prototipi ma è interessante sapere che come ad ogni iniziazione si trasmette una parola di potere all'iniziato così al logos venne trasmessa la parola di potere che produsse il sistema solare la parola sacra la um ricordiamo che il suono aum è un tentativo umano di riprodurre su scala infinitesimale il triplice suono cosmico che rese possibile la creazione le parole di potere di ogni grado hanno una triplice sequenza primo sono intonate da un'entità pienamente autocosciente e ciò avviene sempre dopo un periodo di meditazione o deliberazione nel quale il proposito è visualizzato in toto secondo influenzano il regno devico e producono la creazione delle forme questo effetto è duplice i deva sul sentiero dell'evoluzione i grandi costruttori del sistema solare e quegli ad essi subordinati che hanno già attraversato lo stadio umano rispondono al suono della parola e collaborano in piena coscienza con colui che l'ha emessa in tal modo l'opera procede i deva dell'arco anzi sull'arco involutivo i costruttori minori che non hanno ancora attraversato lo stadio umano anche essi rispondono al suono ma costruiscono le forme richieste con la propria sostanza inconsciamente o forzatamente mediante il potere delle vibrazioni poste in moto terzo essi agiscono come fattore stabilizzante e fino a quando perdura la forza del suono la forma mantiene la propria coesione ad esempio quando il logos cessa di far risuonare il sacro aum e le vibrazioni cessano la forma si disintegra così per il logos planetario e lungo tutta la scala discendente le parole di potere o le permutazioni della um esistono in ogni possibile tono sottotono e quarto di tono e su queste sfumature di suono è costruita e mantenuta la creazione un suono fondamentale contiene una molteplicità di suoni che influenzano gruppi diversi ricordiamo inoltre che generalizzando i suoni esistenti nel sistema solare si suddividono in due gruppi abbiamo i suoni iniziatori che creano la manifestazione o i fenomeni di ogni specie su tutti i piani e poi abbiamo i suoni susseguenti emanati dall'interno delle forme stesse nel corso dell'evoluzione e che sono il complesso dei toni di ogni forma di un regno della natura analogamente ogni forma ha un tono prodotto dai deboli suoni emanati degli atomi che la compongono tali suoni si sviluppano dall'altro gruppo e influenzano gruppi o regni inferiori se il termine inferiore può essere applicato ad un settore della manifestazione divina per esempio il regno umano la quarta gerarchia creativa fu prodotto da un triplice aum intonato all'unisono in una tonalità particolare dalle tre persone della trinità padre figlio spirito santo o shiva vishnu brahma questo suono vibra tuttora lo scambio e la reciproca fusione delle numerevoli deboli note emesse da ogni essere umano producono un grande suono unificato che può essere udito negli alti luoghi e che a sua volta ha un preciso effetto sul regno animale è uno dei fattori che producono forme animali ad uso sia degli umani che degli animali poiché va sempre ricordato che l'uomo collega l'animale con il divino non è possibile né sarebbe opportuno enumerare le parole di potere ma si possono dare indicazioni generali che aiuteranno a comprendere qualcosa dell'immensità del soggetto e della sua complessità la grande parola intonata dal logos del sistema solare a lui comunicata dal suo superiore tre parole affidate dal logos solare a ciascuno dei tre logoi ossia il sacro suono a a shiva che incarna lo spirito o aspetto volontà ed è la parola mediante la quale opera dio padre il suono u a vijnu dio figlio è il costruttore della forma e provvede il corpo che lo spirito deve occupare rendendo così possibile l'incarnazione divina a è il suono della vita u della forma il suono m abrahma il quale provvedendo l'energia unisce nell'intelligenza attiva spirito e forma se e non se lo studioso che rifletta attentamente su queste funzioni ricaverà molte indicazioni riguardo ai tre dipartimenti della gerarchia sette grandi parole esse pure basate sui tre sacri suoni a u m le quali crearono manifestarono i sette piani del nostro sistema solare non sono trasmesse ad entità umane ma i sette grandi deva le vite che animano un piano per questo motivo alle varie iniziazioni è necessaria la loro collaborazione prima che quelle parole chiave possano essere trasmesse all'iniziato 49 parole relativa ai 49 sottopiani o fuochi esse pure trasmesse ai 49 costruttori dei sacri fuochi i due gruppi suddetti di parole sono di competenza del terzo aspetto e sono emanati da abraham cinque grandi parole consegni riguardanti il dipartimento di vigno o dio figlio e da questi emanate per loro mezzo sono nati cinque regni della natura sull'arco evolutivo il regno minerale il regno vegetale il regno animale il regno umano il regno spirituale questi cinque suoni sono permutazioni o sono costruiti nel suono u come le parole prime numerate sono sviluppati anzi sono sviluppi del suono della m in relazione primi tre regni è interessante notare che sono basati su due suoni la u intonata sul tono chiave fondamentale della m nel quarto regno il suono m sta scomparendo e le due note emanate sono la u e la a nel quinto regno la m sussiste in un lontano sottotono la u è unificata con essa e non è più distinguibile e non è più distinguibile da essa e la a o nota di sciva risuona in tutto il suo potere ed è praticamente la sola nota udita facendo risuonare questa nota quella di sciva il distruttore il non se è annullato e tutto ciò che non è spirito si dissolve è l'arrivo del suono a che effettua la separazione o liberazione dell'iniziato dai tre mondi vi sono anche delle parole trasmesse ad ogni logos planetario e sono la base della sua manifestazione come sappiamo il suono dell'aspetto brahma o terzo aspetto del nostro logos planetario è il fa ciò getta molta luce sul suo stadio evolutivo poiché è evidente che il suono a raggiunge anche il piano fisico denso nell'ambito della gerarchia vi sono numerose parole formate sulla base della grande parola del nostro logos planetario che vengono trasmesse ai capi dei dipartimenti i quali a loro volta le comunicano variandone l'ordine agli iniziati dei vari gradi si tenga ben presente che le parole e suoni sono cose diverse poiché la parola vela il pensiero o l'idea o il proposito mentre il suono fa sì che si manifesti in sostanza di qualche specie sull'uno o sull'altro dei sette piani non possiamo indicare le estensioni delle parole fondamentali dalla loro enunciazione da parte di entità cosmiche fino alle differenziazioni infinitesime che si producono nella parola umana nei suoni emessi dagli animali e nel canto degli uccelli ciascuna è una manifestazione di coscienza di un dato grado e produce un effetto l'iniziato deve imparare ad emettere suoni coscientemente ottenendo risultati voluti ed esatti a pronunciare parole con piena consapevolezza delle conseguenze su tutti i piani a creare forme e dirigere energia mediante suoni sacri favorendo così i fini dell'evoluzione è stata necessaria questa digressione prima di considerare la trasmissione di parole all'iniziato per dare dovuto rilievo alla fondamentale importanza del soggetto e giustificare perché questo aspetto dell'opera divina sia tenuto accuratamente segreto grazie 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 grazie